Continua con successo più cibo meno spreco, la campagna promossa da Etra per la riduzione degli sprechi alimentari. Dal suo avvio nel novembre 2014 fino allo scorso marzo, l'iniziativa ha consentito di recuperare e riutilizzare ben 74.696 kg di cibo destinato ad essere gettato, pari ad un valore economico di oltre 353.000 euro. Etra ha elaborato una campagna antispreco e creato un network che ha coinvolto 10 punti vendita in 10 diversi comuni del territorio della Multi Utility. L'adesione è maggiore finora arrivata dall'Alta Padovana ma anche dall'Alto Piano di Asiago.